Ma io ci posso mettere, tipo, Emerald Swedish, direttamente. Continua. Dopo c'è anche la PIL, dopo la CreateCraft. Sium. Eccoci. Allora. Allora. Mi devo creare... Start. Ma sono uguale io! Sono io, identico! Mamma mia, ma i stessi capelli c'ho! Minchia, i stessi occhiali. Incredibile. Allora, non faccio neanche cambiare, tipo, un attimo, al volo i capelli, bro. Che cazzo ci crede? Perfetti. Uguale. Minchia, raga. Ma volete mettere? Aspi, grazie mille per la sabore regale a Tamiskai. Grazie mille, Aspi. Allora. Ma, in realtà, questo qui... Palesemente io. E io. Sono proprio quei baffi. Quei baffi che si impregnano. Sia di birra... E anche di acqua. Perché bevevo un pochettino d'acqua. Che buona. E fatti bene, dai. Ma ha senso farmi questo qui? Va bene. Allora mi faccio. Senza baffi, senza barba. Ho gli occhiali, sì. Eh, 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 eh. Ok, ok, ok. Naso... Ma io avrei tipo un naso... Abbastanza normale. Cioè non ho chissà che naso strano. Ma poi è cambiato qualcosa. Questo è proprio brutto. Aspettate. Questo. Let's go. No, dove sono... Minchia sono andato. Ok, ci siamo. Allora. Che cos'è la manità di eventi o 7MC che hanno tolto gli... Ecco, saranno gli eventi e le NPC per gli eventi, quello lì, bro. Orcatro, mi sono cagato in mano. Oh, no. Incredibile. Incredibile che non si riesce a fare... Va bene. Mi sono arrivando tutte le notifiche adesso, eh. Perfetto. Io... No, voglio cambiare i miei capelli e basta, sinceramente. Ma i capelli sono... Ah, sono uguale! Sono uguale! Sono io! Fammi cambiare un attimo gli occhi. Aspetta. Io. Eccomi. Eccoci. Eccoci. Eccoci qua. Allora, ma se volessi mettermi due capelli... Chill... C'è tipo la forma da stampiato, come quelle che ho io? C'è tipo la forma da stampiato, come quelle che ho io? No. Minchia, ragazzi, sarei gnocchissima! Ma perché devo mettermi la coroncina? Ma scusami. Oh, ma non ci sono un paio di capelli che assomiglino i miei? Questi? Minchia, sembro Giovanni Mucciaccia. Sono io. Eh, dovevo mettere tipo questi per il ciuffo. Bene o male. Va bene, va bene. Bene, sì, vabbè, completa, dai. Che ci mettiamo qui? Voglio questa. Mamma mia, perfetta. No. No, questa, questa. Mi piace, mi piace. Poi mi metto anche... Eh... Grossa sciarpa. L'hack di Emerald! C'è l'hack di Emerald qui, aspetta. Eh, infatti. Messa, messa. Easy. No, ma così, bello chill. Vabbè, qua è tutta la personalizzazione che è abbastanza inutile come roba, eh. Quindi, in realtà, completa e via. Vabbè. E questo non c'entra nulla, ok? Era un altro finto quello là, sì. Allora, io adesso... Devo fare... Eh... La roba, più di tutto, della casata. Quindi, discover your house. Eccoci. Get sorted now. Allora. Tramonto o alba? Mmm... L'alba. Ah... Allora. Vediamo. Allora, quale pet prenderei? Ho fatto... Ho fatto tramonto? No, ho fatto alba. Ragazzi, paresemente gatto. Ah... Dove è il mio tutù? Tutù! Guardi tu! È uguale! È lui! È lui! Identico! È lui! No, ringrazio, grazie mille per i tre. È Simo, grazie per i 33 mesi! È di livello 2, addirittura. Ok. Fatto. Allora. La notte sul tardi e la notte. Camminando da solo lungo la strada hai sentito un pianto che... Pericolio... Ok. Pericolio... Quindi sì, un pianto particolare che ha qualcosa di magico, un sentone magico. Cosa fai? Allora. Quindi esce la tua bacchetta e... Ok. Allora. Entro in la shadow to avoid the deploy... Ok. Allora. Quindi questo qui tipo è praticamente... Ti avvicini in modo furtivo, così. Cioè, anzi, non è che ti avvicini. Cioè, ti nascondi. Ti nascondi tipo nell'ombra e aspetti che succede qualcosa. Esce la tua... Estrai la tua bacchetta e vai a vedere qual è la fonte di questo suono, di questo rumore. Procedi con attenzione, tenendo appunto in contatto comunque la mano con la tua bacchetta, quindi non l'estrai. E fai appunto, tieni gli occhi aperti. Ma allora, io sarei di più, ragazzi, per procedere con attenzione, così. Ah, potrei anche tradurre la pagina direttamente, dita. Sium. Cliccato. Non ha funzionato. GG. Mi farei questo. Ma se mi traduce la pagina, Pog. Ciao, Favetta. Fox, ti cazzavi i dieci mesi. Ah, ecco qua. Data la scelta, preferiresti inventare una pozione che ti garantirebbe gloria, amore, energia o saggezza. Mi garantirebbe amore. Allora. Gloria, non c'è il bisogno. Amore, già sono a posto. Energia, potrebbe un po' mancare. Saggezza. Ragazzi, sono molto saggio io alla fine. Sono molto saggio. Cioè, a volte vi dico dei detti che sono molto antichi. Quindi. Che mi garantirebbe? Quindi avrei sempre o saggezza? Sempre energia? Ma io mettere, ragazzi, tipo... Saggezza, dai. Dai, mettiamo saggezza, vai. Quali delle seguenti cose trovi più difficili da affrontare? La solitudine. Boredom vuol dire tipo la noia. Anger è la rabbia. No, Anger è fame. Anger è fame. Qual è? Angry. Anche l'opzione dei soldi. Anger è fame, sì, infatti. Sì, sì, fame, fame, fame. No, perché appunto... Cioè, scome parte subito con il... Appunto, come si chiama? La solitudine. La noia. Pensavo che erano appunto stati d'animo. E sono andato lì subito per rabbia. Capito? Invece noia è fame, infatti. Essere ignorati è il freddo. Quelle di quelle seguenti cose trovi più difficili da affrontare. Penso la noia. La noia. La solitudine è... Cioè, io vivo bene da solo, sinceramente. Come cosa? Cioè, non... Non sento... Non soffro tanto la solitudine, ecco. No, cold è freddo. Quindi, io sarei più per la noia. Sarei più per la noia. Perché se tu dal noi... Dal noi... Non è la soluzione alla noia, capito? Se sei annoiato. Devi trovarti qualcosa per... Cioè, la solitudine, meno male, tu puoi vivere con la solitudine. Ci puoi stare bene. Ma una persona che di base è annoiata... Non è che può dire... Ma io sto bene annoiato. Io mi diverto di essere annoiato. Capito? Alla raga, alla, alla. Quindi... Io direi più... La noia. Allora... Quattro scatole sulla... Sono posizioni davanti a te. Quale... Proveresti ad aprire? La scintilante scatola nera... A getto con serratura... A chiave d'argento. Contrassegnata da una misteriosa runa... Che sai essere il segno di Merlino. La piccola scatola di Peltro. Semplice e senza pretese. Con un messaggio graffiato su di essa... Che recita... Apri solo per i... Apro solo per i degni. Ok? Cioè si apre soltanto per i degni. Vabbè. La piccola scatola di tartarughe... Penso sia... Tradotto male. In preziosità da oro. All'interno della quale... Una piccola creatura... Sembra... Scricchiolare. Qua la traduzione ragazzi... Ma era meglio tracciare in inglese. La baradona decorata. Ma apro la baradona... Me ci ficco dentro. In piedi su piedi... Artigliati. In che situazione... La cui iscrizione avverte... Che sia la conoscenza segreta... Che la... Tentazione insopportabile... Si trovino... Si trovano all'interno. Io mi sa raga che... Dovrei mettere un attimo in inglese... Perché non sto capendo. Non sto veramente capendo. Allora. Ci devo pensare ragazzi... È importante come scelta... Quindi non voglio assolutamente fretta... Dalla chat... Ci voglio pensare. Allora. Qua... La roba della luna misteriosa... Mi intriga. La piccola scatola in... Peltro... Sinceramente... Crescita... Che sia... Cioè... Diciamo che stanno per i degni... Non mi interessa... Più di tanto, eh. Qua dentro c'è la mia piccola creatura. No, io vado per la prima. Per la prima. Se potessi... Se potessi... Avere qualche potere... Quale sceglieresti? Il potere di leggere... Le menti. Il potere di cambiare il passato. Il potere dell'invisibilità. Il potere di parlare degli animali. Il potere della forza sovrumana. Il potere di cambiare il tuo aspetto... A piacimento. Allora. Leggere le menti interessanti, eh. Invisibilità pure. Molto interessante. Allora. Naturalmente, ragazzi. Quello che voi scrivete... Non c'è la risposta giusta, ok? Quello che voi scrivete... In realtà poi servirebbe... A voi per... Capire la vostra casata. Ok? Quindi... È un po'... Il potere di cambiare il passato. Non mi interessa. Il potere di leggere le menti... Allora. O menti... O invisibilità. 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 Fra, grazie per i 69 bitarelli. Grazie mille. No, vabbè. 69 bit. Assurdo. No, la facciamo dopo. Tra poco la create, ragazzi. La facciamo tra poco. Dopo che faccio il test. Se sei invisibile, puoi spiare le persone. Allora. Però scusami. Raga, la traduzione... Sinistra o giusto? Perché, vabbè. Sei a sinistra o a destra. Ma io sono per... Per destra, giusto? Raga, voglio spam di O in chat. O in chat. O in chat. Vediamo un pochettino. Vediamo, vediamo, vediamo. Gira. Grifondoro! Let's go! Sium! Visto? Incredibile, ragazzi. Incredibile. Incredibile. Mattissimo. Mattissimo. Emerald, il personaggio principale. No, sei il mio nemico. Gli opposti si attraggono. Assomiglia a Harry Potter. Eccoci qua. Sei un mago, Eme. Assurdo. Raga, il Patronus. Andiamo di Patronus ora. Oh, meglio con le cuffie. Ce l'ho, ce l'ho. Oh! 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 Ah, il Patronus è una specie... È tipo una forza positiva. Una proiezione... Eh... Sì. Non me lo mettiamo di legge. Mi sono messo a fare il coglione sulla sedia. P! Cosa c'è scritto? No, aspetta, raga. Perché non vorrei che la traduzione mi sminchi alla roba. Eh, infatti. PIN! Discover your Patronus. Begin! Oh! Relax. Ma io mi relaxo. Vai. Oh! Aspetta, 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 che qua abbassiamo anche le luci. Eh, no, aspetta, non ho scelto! Ma porco! Ah, ecco, devo reattare più velocemente. Ok. Serve, protect... Sì. Protect. Ok. Bright o shadow? Shadow. Attendo, non ho preso quello che vi volevo. Earth Wood Stone. Earth. Oh! Cos'è stato? Il tuo Patronus si sta per farsi vedere, insomma, quello. Aspetta. Forever something. Forever. Un'altra domanda e abbiamo fatto. Love, trust, hope. Trust! Tu hai un Patronus che non è... Non è molto comune. Un'altra domanda. Ripple Wave. Eh... Wave! Wave. Oh! Vediamo, ragazzi, il nostro Patronus. Il mio Patronus. Click and drag. Grosso uccello! Un piccione! Un piccione! È lo Scopes Owl. Vabbè! Vabbè! Oh! 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 Buono! 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 Proprio lui. Grande piccione dorato. Sium! Mi è rimasto il sium da ieri con un becco, eh? Raga, assurdo, ok? Però ogni minchia di diciamo sempre il sium per memare. Ok. Oh! Eh... Va bene. E adesso la bacchetta. Vediamo adesso la nostra grande e grossa bacchetta. Allora. Mi sembri di mettere a destra. Aspettate. Io l'ho premuto. Eccolo. Un attimo, tolgo i pomodoris. Allora. Quindi tutto. Come ti descrivi... Vabbè. Average 8... Ragazzi. Qual è l'altezza comune? Un metro e set... Io sono un metro e ottanta. Quindi sono alto oppure è nella media. Penso che sono... Vengo a considerare un alto. Un e 75. Quindi alto, alto. Ok. Colore dei miei occhi. Allora. Sono brown, brown. Ok. Non dark brown. Allora. In quale... Allora. Quale giorno sono nato? Un giorno pari o dispari? Even, ragazzi, è... Mi ricordo che lo stava facendo Diego. E ho detto che era sbagliata la cosa. Even è pari. Hod è dispari. Io sono nato il 13 aprile, quindi... Odd. E dispari? Allora. 13 aprile, dispari. Allora. Do you most pride yourself on your determination, imagination, resilience, intelligence, originality, optimism, prime, kindness. Allora. Io sono un tipo molto determinato comunque, eh. Cioè, io sono proprio quasi al limite della follia che quando voglio fare una cosa, anche se va male 20 volte, ci ritento, ritento, ritento. Quindi sono molto determinato. Ok. Sono un tipo anche molto ottimista. Perché se no già a quest'ora, ragazzi, ciaoone. Ho una discreta immaginazione, perché se no, non penso che avrei fatto tanto sto lavoro. Avrei soffritto di mezzo, quindi... Oggi sono molto originale, certo. Sono un bello ragazzo, sono bravissimo. Donne! No, no, no. No. Felicemente fidanzato, niente donne. Uomini! Determinazione, dai. La Criticraft andiamo tra poco, raga. Allora. Allora. Viaggiando da solo, in una strada deserta, raggiungi, appunto, un incrocio. Cosa fai, insomma? Dove vai? Allora. A sinistra verso il mare. Right to ours, quindi, a destra verso un castello, oppure avanti verso la foresta. Destra, castello. Cosa... Di cosa hai tanto paura? Fuoco. Bro. Darkness, un botto. Isolation, no. Altezza. Small spaces. No, darkness. Mica, ragazzi, mica, quando sto nel buio. Io, ragazzi, non c'ho la lucina la notte. Io non dormo. Ok? Allora. In una cesta, quindi in una cassa con tanti artefatti magici. Quali... Quali andresti a scegliere? Allora. Pugnale d'argento. Dalgare e spugnale, se non sbaglio. Un... Cos' come si chiama? Lo specchio. Gioielli belli sbrilluccicanti. Una pergamena. Golden key. Dusty bottle. O black glove. Allora, sono molto per... O la dusty bottle. O la golden key. Perché io sono amante roba dei tesori, eccetera. Però la dusty bottle può raccontare qualcosa. Perché avrà un'etichetta, una roba all'interno. Sarà piena, sarà vuota. C'è una bottiglia normale di quelle tipo verdi, tipo impolverate, non lo so. Quindi, vado più per la golden key. Sium. Sigamore Wood with a Phoenix Core di 13 e tre quarti. Va bene. Va bene. Ho bisogno un attimo della traduzione perché non so cos'è il Sigamore. Vediamo. Se me lo traduce il broschi. Legno di Sigamore. Vabbè, il centro c'è appunto la roba della Fenice. Ok. Con l'anima di Fenice. Lunghezza 13 e tre quarti. Oh. 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 Interessante. Ragionevolmente flessibile. Flessibilità. A quanto meno la traduzione è andata sempre a quel paese. Raga, è enorme. La bacchetta C il mago. Ricorda. Ollivander. Olè. A posto. A posto. Mamma mia. Albus Silente. Chissà che bacchetta avrà. Ma proprio tipo avrà una bacchetta così gigante. Allora. Raga. Abbiamo fatto tutto. Di conseguenza domani poi con la... Con Hogwarts Legacy. Dovremmo avere già la nostra casata di Grifondoro. Il nostro patrono. E la nostra bacchetta. In realtà è piccolina. Ma in centimetri... No. È in pollici. Non... Raga. Sarà in pollici. Vedete. È in pollici. È in mie palle. Scusatemi. Tre... Tredici pollici. In CM. Orco Troia. 33 centimetri. Oh. Signora bacchetta. Mi chiamavano... Erisifredi. Sono io. Esci la bacchetta. Aspetta. Un momento. Aspetta. Io mi immagino tipo così. Aspettate eh. Arrivi tu che esci la bacchetta. Tipo... Eccola. Eccola. Ecco questa qui la mia bacchetta. Mmm. Ivi di chidimi. Porca tro. Ah. Ma va che braccio. In realtà sono magrissimo. Bacchetta vai... Elgato. La tenere di su per il culo? No. Quella tu ma. Ma.